Peccato, attacco della Luigi fuori, 21-25, si chiude questo quarto sette, 3-1 per il Piacenza, ancora una volta il Sovrato in casa non riesce a dare il massimo e anche il Piacenza, una squadra che aveva 7 punti in classifica, va a 10 e noi rimaniamo a 12, adesso abbiamo una giornata di fermo e come va il Caserto, altri ci possono anche raggiungere e poi passare, peccato. Peccato, ancora una volta il Sovrato perde 3-1 in casa, amici sportivi, che dire, le atleta parano il pubblico ma un pochettino arrabbiate, una partita dove dovevamo per forza portare a casa i 3 punti, invece sono combati da un 32-34, sia errore abitare il primo sette, sia qualche defaianza nostra, abbiamo fatto il primo sette, poi abbiamo vinto il secondo, perso il terzo e malamente perso pure il quarto. A questo punto veramente non so così, non so cosa deve fare la società. Coccio Pistola, è venuta anche lei qui a Sovrato, ha portato a casa 3 punti dopo un primo sette con 6 palle 7 per il Sovrato, due occasioni per lei e alla terza ha messo a segno quel punto molto importante, da lì forse avete creduto di più su voi stessi e a portare a casa i punti questa sera. Ma sì, perché era un set molto importante, visto che noi venivamo da tante sconfitte in trasferta, quindi vincere quel sette vantaggi in quella maniera sicuramente ci ha dato un'iniezione di fiducia che poi si è rivista anche durante il resto della partita. Adesso, insolito, ma a ripassare, voi giocherete, quindi avete adesso delle buone possibilità di scavalcare parecchie squadre ed uscire da quel terzo e ultimo posto in classifica? Il nostro campionato è iniziato quando abbiamo recuperato la Viga 9 e la Gioia, quindi da poche settimane e speriamo di crescere durante la stagione e di riuscire a salvarci, insomma, con un po' d'anticipo. La Gioia dove? Una mancina ha dato veramente fastidio a quel sero di Sovrato. Ma non è partita benissimo, ha fatto un primo set brutto, poi invece dopo ha fatto un buon contributo, però anche lei a 12 anni in fortunio non sta ancora sicuramente al top della forma. Coach, io sono più arrabbiato di lei, non per il risultato perché l'ho vista veramente arrabbiata lei, le ha provate tutte, ma di tutte e di più, e conoscendola non merita fare queste figure con la squadra. Sono fortemente amareggiato in una partita che abbiamo fatto, costruito e distrutto da soli, quindi sono fortemente amareggiato. Come ho già detto, prendere delle decisioni a caldo è sempre sbagliato, quindi cercheremo di valutare e riflettere sulle cose che sono state fatte bene e quelle meno bene. Ma obiettivamente cosa manca alle ragazze? In questo momento manca un attaccante di riferimento perché comunque abbiamo fatto discretamente bene con l'attacca 2 e con l'attacca 3 abbiamo fatto fatica ad andare per terra, abbiamo fatto fatica con i muri, l'abbiamo dato credo sempre di più rispetto a loro perché noi 16 e loro 14 però non sono sufficienti per giocare contro queste squadre. Lei sicuramente settimana parlerà con le atlete? Sicuro. Perché lo vediamo molto teso e comunque, chi ha proprio freddo, io ho visto dai tifosi che le sono vicini, comunque bisogna veramente dare una svolta a questo comprenato se no stiamo facendo delle figuracce orrende. Eh sì, sono perfettamente d'accordo con te, io mi impegno al massimo e cercheremo di dare una svolta, ti ripeto, le decisioni fatte a caldo lasciano il tempo che trovano, quindi io sono una persona molto riflessiva e rifletterò appunto sul da farsi. Bocca al lupo per tutti che lo meriti. Crepi il lupo, grazie.